Una salve a tutti voi, eccoci di nuovo insieme per parlare del fantastico mondo del grande schermo del cinema. Prima di presentare l'ospite di questa puntata vi volevo fare un po' il punto della situazione per quanto concerne gli incassi delle ultime settimane e quindi anche per quanto riguarda ovviamente il periodo natalizio. Non è così difficile da capire quale sia stato il film che è andata per la maggiore in questo periodo e sto parlando ovviamente di Avatar 2, La via dell'acqua, che in quattro settimane ha incassato 37 milioni e mezzo circa di euro. Sembra una cifra clamorosa ma vorrei ricordare che il primo Avatar ebbe un incasso in Italia di 75 milioni di euro. Questa dimostrazione del fatto che appunto la pandemia, crisi energetica e via discorrendo hanno contribuito a far sì che questo film sia andato bene per il periodo ma non come avrebbe potuto fare in altre epoche. Poi un altro film che è andato discretamente bene ma tutto sommato un po' al di sotto delle aspettative Il grande giorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con il loro ritorno sul grande schermo hanno incassato all'incirca 6 milioni e mezzo di euro. Altri film che vi voglio dare, 3 di troppo che in due settimane ha ottenuto poco più di 3 milioni di euro di incassi Bene è andato anche Le otto montagne, un film un po' se vogliamo particolare che ha in tre settimane totalizzato un incasso di quasi 4 milioni di euro. I migliori giorni, l'incasso non è stato clamoroso, 1 milione e 200 mila euro di incasso in due settimane e anche non è che ha avuto incassi clamorosi il film di Spielberg, The Fablements con 2 milioni e 150 mila euro di incasso, sempre all'incirca diciamo così. Un buon incasso perché parliamo di una proiezione un po' particolare, quella di Whitney una voce diventata leggenda che ha sfiorato i 900 mila euro. Bene, questo per quanto riguarda i dati nudi e crudi ora vi vado a presentare il nostro ospite che è già stato qui ai nostri microfoni stiamo parlando con un regista abruzzese, Francesco Calandra Ciao Francesco, benvenuto di nuovo tra di noi Ciao a tutti, grazie Ho voluto invitare Francesco proprio per parlare del mondo della regia perché quando si parla di regia si pensa a quell'omino che è seduto su una sedia sulla cui schienale c'è il suo nome e cognome che fa Chuck Sigira che in realtà poi non lo fa neanche lui e dopodiché dice stop e questo è il ruolo del regista il regista c'è ben altro e c'è ben di più, vero Francesco? Sì, mentre parlavi mi tornava in mente poi è nominato Fablemas di Spielberg c'è un cameo formidabile, non so se il film l'hai visto però è su Youtube questa piccola sequenza del film in cui c'è David Lynch grandissimo autore, regista cinematografico che interpreta John Ford che appunto è un regista per le cose che ha fatto per come si comportava su set per quello che ha detto nella sua vita anche lunga, anche cinematograficamente lunga di lavori, di produzioni è stato un regista che ha riempito di aneddoti la storia del cinema appunto sì, in questo periodo fra l'altro cosa che abbiamo ricordato nell'altro incontro sto proprio conducendo delle lezioni per e proprio sui mestieri del cinema sulle professioni un progetto molto bello, molto interessante devo dire le scuole accolgono con molto entusiasmo che è proprio centrato sulle professioni quindi ogni volta parlo di un mestiere insomma poi invitiamo anche dei professionisti spesso meno noti di quelli che sono il regista, l'attore e così e devo dire che i ragazzi sono molto curiosi fanno domande molto pertinenti e crea sempre insomma un interesse particolare anche il regista nonostante questa figura come dicevi tu conosciuta, insomma rinomata poi in realtà se vai a chiedere ai ragazzi cosa fa il regista non lo sanno in particolare il regista è quello che conduce il film dall'inizio alla fine negli ultimi anni, dagli anni 50 insomma in poi dopo la rivoluzione della nouvelle vague francese che ha imposto come regista l'autore reale del film mentre prima non era proprio così si veniva anche spesso chiamato e messo lì si, succede anche adesso molti film americani qualche volta anche produzioni Hollywood assolutamente qualcosa anche succede anche qui in Europa per certe cose il regista era un semplice dipendente non dico un impiegato perché è un po' riduttivo ma insomma questa diciamo rivoluzione portata da questi ragazzi all'epoca negli anni 50 della nouvelle vague ha imposto questa visione un po' diversa della figura del regista che è quella appunto quella figura che come dicevo autore per cui è conduce il film dall'inizio dalle primissime battute quindi dalla scrittura dell'ideazione proprio fino all'ultimo fotogramma che viene proiettato e quindi si occupa e si fa carico di tutte le fasi del processo del cinema dalla preproduzione quella appunto della preparazione scrittura e tutto qua casting eccetera delle riprese ovviamente quello che dicevi tu sulla sediolina motore eccetera eccetera fino al montaggio cosa che appunto ad Hollywood in quegli anni ma anche adesso ripeto non è sempre ammesso al regista all'autore di partecipare nella fase di montaggio perché il montaggio anzi il film come ricordo spesso ai ragazzi non è del regista almeno in alcune produzioni nazionali ma il film è del produttore cioè di colui che ha messo le risorse o comunque si è impegnato a trovarle e quando si dà il premio al miglior film lo va a ritirare non il regista ma il produttore questo succede anche in Italia devo dire ma ecco diciamo così il rapporto che esiste tra il produttore e il regista tenendo conto che a volte il regista può prodursi da sé sì sì allora un discorso come al solito un po' complicato un po' articolato perché è vero che adesso le produzioni perlomeno non quelle diciamo industriali ecco dei film che vanno in sala di quei titoli che tu hai nominato si possono realizzare anche con risorse un po' più ridotte un po' piccoline e quindi succede anche che un regista si riesce a produrre da sé poi c'è anche il caso di Christopher Nolan che produce anche lo stesso insieme a Fratello film industriali con milioni di budget appunto per la realizzazione ci sono sempre case insomma eccezioni però diciamo che la cosa la cosa migliore sarebbe quella che chi fa il produttore fa il produttore chi fa il regista fa il regista poi è ovvio che il regista entra anche in produzione perché magari ha scritto la sceneggiatura quindi diventa autore diciamo al 30% insieme al produttore per cui rinuncia al suo compenso diciamo così per investirle nella produzione insomma dipende dal contratto che si fa dalle fasi che si riescono a mettere su per far capire a chi non è avvezzo nel mondo del cinema e magari è molto bravo e attento alle cose del calcio è un po' come l'allenatore ed il presidente il presidente mette soldi l'allenatore poi organizza la squadra nel tentativo di farla giocare nel migliore dei modi a volte capita appunto che il presidente dica all'allenatore fai giocare questo fai giocare quell'altro ma perché non usi questa tattica rispetto ad un'altra è un po' anche nel cinema a volte può capitare questo è un'ottima metafora abbiamo casi di presidenti che sono intervenuti in maniera a gamba tesa di dire nelle decisioni del mister ma ci sta perché appunto sente che la cosa è cosa sua il prodotto non è un termine forse molto appropriato però nel caso del calcio ma anche nel caso del cinema sono imprese chiamiamole così progetti che è uno in cui investe molto anche di risorse economiche quindi si sente autorizzato un altro rapporto importante per il regista è quello con il il o i sceneggiatore sceneggiatori perché di fatto bisogna davvero andare avanti con grande armonia sotto questo punto di vista perché magari lo sceneggiatore come dirà in mente una cosa il regista legge e vede magari la cosa in un altro modo grande armonia ma anche grandi conflitti non dimentichiamo che fra questi conflitti clamorosi qualcuno ci riguarda da vicino perché ci ricorderemo qualcuno saprà sicuramente Flaiano ebbe delle difficoltà Flaiano di Pescara grande sceneggiatore grande autore scrittore di satira dell'epoca gli anni 60 70 ebbe dei conflitti la dolce vita tanto per dirne una 8 e mezzo per me rimane il film il film eh sì per me rimane esatto esatto quando io ho bisogno di cinema con le lettere tutte le lettere maiuscole mi riproietto 8 e mezzo lo rivedo e mi rimetto in pace con con questa sì con questa sì ebbero dei grandi conflitti e ci fu il caso clamoroso proprio nell'occasione del ritiro dell'Oscar in cui si racconta che per un risguido dei biglietti prima classe seconda classe Fellini si impose per andare in prima classe e costrinse Flaiano andare in seconda classe si racconta che Flaiano atterrando a New York ritorna subito in Italia amareggiato insomma contrariato da questa ma sicuramente i conflitti erano cominciati penso molto prima sì sicuramente guarda io ho una compagna sceneggiatrice quando lavoriamo è un inferno un po' come la coppia no? dici l'amore non è bello se non è litigarello neanche con i film è così ti interrompo un attimo questa chiacchierata che come vedi parliamo della colonna sonora di Avatar 2 per l'appunto di cui parlavamo a inizio puntata siamo qui ancora ovviamente con Francesco Calandra per parlare delle varie sfaccettature del regista del ruolo del regista parlavamo appunto del produttore con il regista dell'osceneggiatore con il regista un'altra figura importante in un film e appunto anche qui c'è un rapporto da farci spiegare è quello con il direttore della fotografia perché alcuni pensano le immagini le fa l'operatore di fatto cioè il direttore della fotografia che poi in realtà non è mai da solo perché poi chiaramente basti pensare al proposito che quando andate al cinema e finite di vedere il film a parte che vi consiglio sempre di rimanere fino a quando è finito il film nel senso quando sono finiti i titoli di coda anche perché possono esserci cose interessanti l'elenco delle persone che lavorano ad un film è chilometrico perché ci vuole un grande sforzo proprio anche di personale di uomini e donne per portare avanti un'opera di questo genere parlavamo quindi del rapporto con i direttori della fotografia anche questo conflittuale no? Sì no voglio cogliere un attimo questo che hai detto dei titoli di coda ho un'idea io per quando andrò nelle classi ho già una parte svolta di questo lavoro che ti dicevo prima nelle scuole cominciare la lezione con il titolo di coda di un film sì perché allora è sicuro che se lo vedono sì innanzitutto si fa educazione per appunto dicevi tu si vedono fino alla fine i film è dura cioè finisce quando finisce il titolo di coda ma per far capire subito come ti mette subito in chiaro le cose chi ci lavora e che cos'è e anche per insegnare a loro ai ragazzi come si leggono i titoli di coda cioè capire chi ha prodotto chi ha messo le risorse chi ha fatto cosa come l'ha fatto se questa persona ha fatto altri lavori dove come quando che poi quello è l'obiettivo del nostro corso sì il rapporto conflittuale tornando a noi tra regista perché sono due autori entrambi sono due autori quindi mettere insieme due autori le idee di due autori in un momento di altissima tensione quando si gira un film perché ci sono i tempi molto stretti bisogna correre perché come dico sempre anche ragazzi voi pensate un film costa diversi milioni di euro spesso faccio questa domanda quanto costa un film secondo voi mi dicono 10.000 100.000 alcuni si sbilanciano 150 poi dico un milione e mezzo il minimo cioè proprio il minimo sindacale per poter iniziare e rimangono sconvolti per cui se si facesse la divisione per ogni secondo di quanto costa un film sono sempre tantissimi euro e quindi sono soldi che se non si decide cosa fare sono soldi che si vanno buttati diciamo così diciamo che la situazione è un pochino migliorata perché prima ora c'è il digitale ma prima quando c'era la pellicola sprecare la pellicola era un massacro quello non ne parliamo però comunque una produzione costa anche se non si gira si si certo se passa il tempo certo perché lo scenacro viene pagato il truccatore viene pagato il falegname che magari sembra che non faccia niente ma viene pagato perché sta lì per cui insomma bisogna decidere in fretta e fare le cose al meglio per tutti per il bene di tutti e quindi in quel momento che si crea una tensione molto forte si va in conflitto facilmente ma si va in conflitto per niente a volte che se ha bocce ferme come si dice si farebbe con molta più semplicità essendo spesso gli autori appunto di fotografia regia ma anche gli attori si sentono un po' autori di quello che viene poi che è l'interpretazione per cui si va in conflitto perché uno la vede in un modo o in un'altra poi è ovvio che il boccino sta in mano al regista e questo è importante che venga sempre ricordato e venga sempre messo al centro della discussione altrimenti la barca non va dove dovrebbe andare beh è chiaro l'allenatore è lui quindi il mister è lui che ha il preparatore fisico per rimanere nella similitudine con il calcio al preparatore fisico psicologico eccetera eccetera però è chiaro che si anche l'aiuto regista che sembra una cosa così che non serve a nulla invece è importante anche perché a volte in produzione di un certo peso è lui stesso che gira alcune scene si assolutamente ed è la persona che come dico io è un po' il cane da guardia della situazione perché è quello che richiama la troupe che fa rispettare gli orari se gli orari non vanno come devono andare è quello che urla agli attori alle maestranze di fare una cosa piuttosto che un'altra perché il regista se facesse tutte queste cose arriverebbe a fine giornata distrutto perché non arriverebbe alla fine del film quindi è quello che è il suo braccio destro ma è un braccio destro ovviamente anche pensante che organizza le cose le discipline ecco in questo momento sei tra virgolette in movimento nel senso che stai facendo una cosa appunto dici rapidamente di che si tratta sì in questo momento siamo in post produzione come si dice nelle fasi del cinema è un documentario in questo caso un documentario dalla tematica molto importante presente e attuale perché riguarda la violenza contro le donne fenomeno che io continuo nonostante ci lavori da due anni ma insomma queste notizie le conosciamo da moltissimo tempo non riesco a spiegarmi purtroppo è un mio limite forse per questo abbiamo voluto affrontare questo tema e appunto uomini maltrattanti che costringono le loro donne purtroppo a lasciare ad abbandonare il nucleo familiare ma non soltanto il nucleo familiare è quello che tutta la vita che le circonda e sono costrette ad andare altrove cioè a spostarsi e a vivere una vita che non è la propria vita quindi con una città diversa in un posto diverso spesso con i bambini per cui organizzare tutto la scuola gli orari le attività molto molto complicato siamo in fase di post produzione come a microfoni spenti raccontavo prima a Tony stiamo ieri abbiamo registrato delle musiche che saranno fra l'altro quelle di ieri proprio era un pezzo che andrà nei titoli di coda e solo per fare questo pezzo che dura tre minuti poi in realtà abbiamo impiegato un pomeriggio intero con il coinvolgimento di tre musicisti dieci ragazze di coro perché c'è la presenza di un coro femminile due tecnici di studio è in trasferta con tutto questo è ovviamente in trasferta perché sì a Pescara non ci sono in Abruzzo in generale ci sono strutture buone ma diciamo lì purtroppo sia per i musicisti che per altri è più facile lavorare a Roma bene quindi dicevamo un'altra curiosità che mi veniva in mente e il ruolo del regista nel trovare la location per il proprio film per il proprio documentario sì ottima diciamo domanda osservazione perché le domande non sono mai ottime le risposte lo sono vediamo mi hai messo in difficoltà adesso il regista si avvale come tutte le fasi di lavorazione di collaboratori è fondamentale e sempre più spesso ultimamente diciamo la figura del location manager è una figura poi anche grazie alle film commission che stanno prendendo sempre più piede in tutto il territorio nazionale tranne che in Abruzzo esatto speriamo che il 2023 possa essere l'anno giusto ci vedrà sì esatto il location manager fa diciamo una cernita di location sotto indicazione del regista ovviamente e presenta poi con delle foto di filmati senza che il regista vada in tutte queste location che magari sono distribuite pensiamo a un castello bisogna individuare un castello 800-700 diroccato ancora tante caratteristiche il location manager fa una selezione va nei luoghi in cui questi castelli sono presenti fa delle foto fa dei filmati poi torna in studio e gli fa vedere dimostra il regista il quale dirà ok questi due questi tre mi sembrano quelli più adatti insieme al direttore della fotografia ovviamente allo scenografo anche allo sceneggiatore in qualche caso insomma per lasciarti un castello sceneggiatore è meglio lasciarlo che poi bisogna sempre vedere anche i costi poi di una location rispetto ad un'altra perché chiaramente anche quello incide e quindi decide di andare in Trentino oppure in Piemonte o in Basilicata se la film commission ci dà più risorse lì oppure proprio non so c'è un castello privato per cui magari bisogna comunque pagare il proprietario o convincere in qualche modo il proprietario bene volgiamo al termine come si suol dire io ringrazio Francesco Calandra che ci ha parlato appunto del rapporto del ruolo del regista del rapporto con gli altri che lavorano nella produzione di un film e di un documentario i rapporti che spesso come ci diceva sono conflittuali e questa è la posizione del regista la prossima puntata vedremo se sarà possibile ma credo di sì di vedere l'altra metà del cielo ed è il caso di dirlo perché avremo una sceneggiatrice non vi dico nulla di più proprio per vedere se quello che ci ha detto Francesco è vero scherzi a parte grazie di nuovo Francesco per essere stato qui da noi e grazie soprattutto ai nostri radioascoltatori e buona giornata e sempre buon cinema